Continua il trend positivo dell'andamento epidemiologico Covid-19 della nostra regione. Lo conferma l'assessore alla salute Nicoletta Veri commentando le anticipazioni del report settimanale del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Senato e Cabina di Regia che analizzano i parametri della settimana tra il 14 e il 20 dicembre scorsi. Nel periodo preso in considerazione dal monitoraggio l'indice R. Conti in Abruzzo si attesta allo 0,7% a fronte dello 0,82% della settimana precedente. Diminuisce anche di 5 punti il rapporto tra positivi e casi testati, esclusi dunque i tamponi di controllo, che passa al 19,8% contro il 24,8% del periodo precedente. Tra gli altri dati presi in esame spicca la riduzione del numero dei focolai attivi che passa da 659 a 498. Di questi, quelli riferiti alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre sono 164, 54 in meno la settimana prima. Il tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva crolla al 22%, la soglia di allerta è al 30%, mentre quello dei posti letto in area medica è al 37%, la soglia è al 40%. Non possiamo che essere ottimisti di fronte a questi numeri, ha commentato l'assessore Veri, ma in questo momento più che mai dobbiamo continuare tutti a mantenere alta l'attenzione e a rispettare le prescrizioni di sicurezza sanitaria.